5 anni, sono sempre 5 anni che te gli hai dato quasi tutto, la mattina neve, gelo, acqua, vento, con tutto. E all'ultimo momento calci nel sedere, andate via a cercare lavoro. Oltre 200 i lavoratori interinali di Sei Toscana, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nelle province di Arezzo, Siene e Grosseto, rimassi senza lavoro, di questi circa 80 nella provincia di Arezzo. Si tratta delle prime ripercussioni del decreto dignità. Pensavo di aver trovato l'ultimo lavoro della vita prima di andare in pensione, invece questa è stata la sorpresa. Ovviamente con i contratti interinali non hai una garanzia, quando ti decidono di non chiamare non ti chiamano più. E questa è a quanto pare la sorte che ha riservato l'azienda per parte di noi. Con il decreto dignità approvato dalla Camera, adesso al vaglio del Senato dovrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato colui che nell'arco di due anni abbia effettuato almeno quattro rinnovi e nei secondi 12 mesi del bienio si dovrà giustificare il motivo per l'impiego del lavoratore interinale. Magari ci serve una legislazione che dice una volta finito il percorso di lavoratore interinale, il personale va assunto oppure te non puoi più assumere i lavoratori interinali, perché così è solo un cambio di persone e francamente non risolve nessun problema. Chiaro che il decreto dignità ha influito su questa scelta, ma penso qui l'azienda debba prendersi le proprie responsabilità e capire che non è pensabile che ci siano almeno 200 lavoratori che lavorano 10 mesi all'anno e continuano a essere precari da anni. Questa mattina i dirigenti di Sei Toscana hanno incontrato i sindacati per un confronto sulle sorti degli interinali. E' chiaro che l'azienda non può assumere tutti, ci sono più di 500 somministrati, però penso che proprio di fronte a questo decreto non si possa accettare che solo perché c'è un decreto si lasciano a casa i lavoratori, ci si mette al tavolino, il decreto non è retroattivo perché parte da novembre, si discute insieme come gestire questi lavoratori, trovando anche soluzioni alternative, ci mancherebbe altre, noi siamo pronti a discutere tutto, purché questi lavoratori vengano dati a una stabilizzazione del mercato del lavoro.